Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo del nuovo Garmin Forerunner 255, un orologio che mi è piaciuto veramente tanto, di cui adesso vi dico un po' i pregi e i difetti e che potremmo definire azzardandoci un po' come se fosse un piccolo Fenix, ma non vi spoilerò altro e iniziamo subito la recensione. Iniziamo a parlare di questo Garmin Forerunner 255 vedendo i modelli che ha immesso sul mercato Garmin. Abbiamo due versioni di questo Forerunner, quella Music e Non Music. Quella Music costa 399€ e ha in più la possibilità di avere all'interno più spazio per poter mettere proprio sull'orologio la musica, quindi scaricarla in locale e non avere più bisogno del telefono per ascoltarla e poter lasciare il telefono a casa quando andiamo a correre. Se no, poi c'è la versione Non Music che costa 349€, in particolare quella che ho io, in cui non possiamo scaricare la musica in locale, possiamo comunque gestirla attraverso l'orologio, ma dovremo comunque aver dietro il nostro telefono per poterla ascoltare. Questa è per quanto riguarda la fascia di prezzo, perché poi abbiamo anche la differenza in base alla ghiera, alla grandezza dell'orologio. Per entrambi le fasce, quindi sia nella versione Music che Non Music, troviamo la versione 255 da 46mm, quindi quella che ho io in dotazione, e poi anche la versione 255S da 42mm, che è un pochino più piccola, magari pensato per un polso un pochino più femminile. Dato ciò, iniziamo guardando un po' i pregi e i difetti. Il pregio numero uno di questo Garmin sono sicuramente le sue dimensioni. Anche se io ho la versione più grossa, quella da 46mm, questo orologio è veramente piccolo, compatto, pochi fronzoli, abbastanza minimal, le sue dimensioni sono veramente piccole. Io l'ho tenuto al polso praticamente per un mese, quasi in modo continuativo, tolte i momenti in cui dovevo toglierlo per caricarlo, non ho mai avuto nessun tipo di problema tenendo al polso, anche di notte, andandoci al lavoro, davvero. Questo orologio potete mettere al polso, ve lo dimenticherete, soprattutto anche per il suo peso. Nella versione da 46mm pesa 49 grammi, e nella versione da 42mm 39mm. Cioè praticamente è un peso più, ma non lo sentirete mai. E questo secondo me è l'aspetto numero uno, perché io che provengo da un Fenix 7X che pesa tre volte tanto, fidatevi, le dimensioni e il peso minore ne fanno veramente un gran punto di forza. E in generale poi anche quanto riguarda i materiali, cioè da questo punto di vista Garmin non deve insegnare a nessuno. Orologio fatto bene, con uno schermo che in questo caso non è touchscreen, abbiamo i soliti tasti per poterlo gestire, i soliti 5 tasti. Però abbiamo un vetro Gorilla Glass per quanto riguarda la protezione da graffi. Viene venduto anche in tanti colori, quindi possiamo anche personalizzarlo. Io ho una versione un po' anonima, grigina, però vabbè, i colori ce ne sono tanti. E soprattutto mi piace anche l'ottimizzazione dello schermo rispetto alle dimensioni. Non abbiamo delle cornici così grandi, anche se si potrebbe fare qualcosa di meglio. Però, che dire, i campi all'interno si vedono bene, quindi davvero le dimensioni di questo orologio mi hanno convinto molto. Passiamo al secondo aspetto che voglio analizzare, forse anche il più importante per quanto riguarda una Sportwatch, ovvero tutta la sensorestica. Iniziamo a parlare dai sensori del GPS. Qui ce ne sono davvero tantissimi. Abbiamo il GPS normale, Galileo, GLONASS, QNZSS se non ricordo male. Ma soprattutto, attenzione, abbiamo la multibanda. Cioè, pensate che c'è la multibanda su questo 255 da 350 euro e non ce l'ho io. Sul mio Fenix 7X non ero già 900 euro uscito a inizio gennaio. Quindi, capite già perché vi dicevo che è paragonabile a un Fenix. Per quanto riguarda poi la precisione, allora, se andiamo in modalità solo GPS, quindi quella dove abbiamo anche una maggiore autonomia, il GPS è abbastanza preciso in campo aperto, ma soffre, come è sempre stato per i Garmin, in caso di palazzi alti, se andiamo a correre sotto degli alberi, diciamo in contesti un pochino più critici. In questo caso ci viene in aiuto la modalità a multibanda. La modalità a multibanda è precisa, io oserei dire quasi al centimetro, perché è una cosa incredibile. Io posso correre, magari tenendo un marciapiede, che quanto è largo un marciapiede? Un metro, un metro e mezzo? Magari mi faccio l'andata tenendo da destra il marciapiede. Il ritorno tenendo la sinistra. Oh, e si vedono due linee distinte che non si incrociano mai. È incredibile la precisione della doppia banda, davvero. Però naturalmente in caso di doppia banda, come vedremo dopo, la batteria va un pochino a dimezzarsi. Passiamo ora al sensore successivo, Garmin Elevate. Per quanto riguarda la misurazione del battito cardiaco, anche questa ormai l'abbiamo vista in tanti orologi Garmin dell'ultima generazione, è precisa nei momenti in cui abbiamo, come dire, un battito costante, cioè con qualche oscillazione naturalmente, ma abbastanza costante. È comunque abbastanza precisa, ma non al 100%, direi un 85% nel caso in cui invece andiamo a fare un'attività in cui la nostra frequenza cardiaca sale e scende ripetutamente. Ad esempio, se va a fare del fartlek, delle ripetute o roba simile. Però per quanto riguarda la precisione, penso che questo sensore di Garmin sia uno dei più precisi presenti sul mercato. Per quanto riguarda successivamente altimetro, barometro, bussola, nessun tipo di problema davvero, cioè altimetro, barometro, perfetti, al metro, soliti sensori ABC di Garmin che funzionano da sempre, funzionano benissimo anche su questo modello. Su questo modello in più troviamo il sensore HR-V che ci va a calcolare la nostra variabilità cardiaca e che quindi ci dice se siamo stressati, se non siamo stressati. Diciamo che questo sensore HR-V mi piace, l'abbiamo visto anche su altri modelli, in particolare l'abbiamo visto sul Coros Vertix 2, però a mio parere si può sfruttare di più. Nel senso, ok, i dati che ci vengono dati al momento, ma io mi aspetto che Garmin vada a implementare un po' più di possibilità per quanto riguarda questo sensore, perché al momento è veramente poco sfruttato. Però intanto noi, dal punto di vista hardware, ce lo abbiamo. Nel caso arriveranno aggiornamenti, poi lo utilizzeremo. Ma tutti questi sensori, che cosa ci riportano? Tantissimi dati, arriviamo al punto positivo numero 3. Questo orologio, il 255, è cambiato molto. Come dicevo, adesso sembra un piccolo Fenix, ma anche perché ci dà tantissimi dati in più. Abbiamo il training status, il body battery, il training effects, tantissimi campi, molti dei quali non c'erano neanche sulla versione 245. Abbiamo la previsione del ritmo sulla maratona. Abbiamo anche il pace pro, che possiamo impostare un nostro limite di tempo e lui ci guiderà per portare a termine la gara in tot tempo. Abbiamo i consigli del giorno per quanto riguarda il Garmin coach, se vogliamo farci guidare da lui per allenarci. Che dire, davvero i campi sono tantissimi ed è veramente paragonabile al Fenix 7, al top di gamma. Cioè, questo orologio qua ha fatto un passo in avanti da questo punto di vista enorme. Altro aspetto molto carino che è stato implementato da Garmin su questi nuovi 255 è il report mattutino. Praticamente noi quando ci alziamo al mattino l'orologio ci dice quanto abbiamo dormito, come abbiamo dormito, quanto abbiamo ricaricato al nostro corpo, che allenamento dobbiamo fare quel giorno, se abbiamo degli appuntamenti. È una piccola chicca che però, secondo me è fatta bene, è carina. Una mattina quando ti svegli e l'orologio ti dice buongiorno, hai dormito bene stanotte? Beh, è soddisfacente. Passiamo ora alla batteria, che anche qua, dico la verità, mi ha stupito. In modalità solo GPS, l'orologio tiene 30 ore continue di registrazione dell'attività. Le 30 ore io le ho verificate perché ho utilizzato questo orologio durante il mio Scenic Trail e che dire, le ore le ha tenute benissimo, l'ho utilizzato anche in tante altre attività e ci sono arrivato tranquillamente e intorno alle 29 ore qualcosa si spegne. Quindi che dire, ha un orologio che tiene veramente bene la carica e invece in modalità doppia banda, come dicevo, il tempo si è di mezzo, arriviamo alle 16 ore. Però tenete conto che, secondo me, la doppia banda molti non la utilizzeranno praticamente mai. È una cosa molto particolare che le persone di quali hanno veramente questa licenza sono veramente poche. In generale, però, poi l'orologio si ricarica nell'arco di un'oretta, poco più, quindi, che dire, anche se il case è piccolo, anche se l'orologio è veramente leggero, la batteria, a mio parere, è molto performante perché con questo orologio possiamo farci benissimo, magari anche da 24 e più ore, senza dover andare a puntare ad orologi maggiori. Veniamo a parlare del quinto punto, quindi tutta la parte smart, che qua a Garmin c'è da dire non la batte nessuno. Su questo orologio, come vi dicevo all'inizio, abbiamo la possibilità di poter comandare la musica se abbiamo la versione non music, e di poterla anche inserire all'interno dell'orologio se abbiamo la versione music. Ma non solo, con questo orologio noi possiamo andare a rispondere direttamente ai messaggi che ci arrivano con dei messaggi preimpostati, questo però solo su Android. Possiamo andare a pagare, quindi possiamo anche lasciare a casa i contanti utilizzare questo e pagare col Bancomat tramite Garmin Pay. Abbiamo inoltre la possibilità di poter gestire, come vi dicevo, per bene tutte le notifiche in base alle nostre esigenze. È molto personalizzabile, anche da questo punto di vista, sia per quanto riguarda tutti i campi, sia per quanto riguarda anche tutta la parte smart. Che dire, cioè questo orologio qua, secondo me, è il giusto compromesso tra uno smartwatch e uno sportwatch. Molte volte gli smartwatch non hanno una grande parte sport. Questo qua invece è uno sportwatch con una grande parte smart. Io vi dirò, a me piace molto comunque avere una parte smart al polso e con questo Garmin mi sono trovato molto bene e non ho sentito la necessità di dover passare a uno smartwatch. Altro punto positivo che mi piace sempre di Garmin è tutta la parte di sicurezza. Noi, se abbiamo abbinato un telefono e solo se abbiamo abbinato un telefono, possiamo decidere, nel caso di problemi, di mandare un messaggio preimpostato chiedendo aiuto a dei contatti. Lui, tramite il giroscopio, capisce se siamo caduti e ci chiede come stiamo e se non rispondiamo, manda un messaggio con la posizione. Possiamo anche decidere di mandare un live track, quindi da casa una persona, tramite un link, può benissimo vedere dove siamo in tempo reale, vedere anche a che punto siamo nel nostro percorso. Che dire, anche da questo punto di vista Garmin, soprattutto sulla sicurezza, penso sia il numero uno. Ma qual è l'unico punto negativo che sono riuscito a trovare in questo orologio? Il prezzo. Il prezzo è decisamente aumentato rispetto al 245, ma a mio parere è giustificato. È giustificato perché abbiamo tantissimi parametri in più, possiamo andare a registrare tantissime attività, non abbiamo più l'alimentazione di avere quelle poche attività che erano previste fino al 4Runner 245. Ora con questo possiamo andare a registrare anche nuoto in acquilibre, qualsiasi tipo di corsa, qualsiasi tipo di allenamento in palestra. Possiamo anche andare ad aggiungerli grazie alla connettività con Garmin EQ. Quindi che dire, a mio parere, il salto di qualità c'è stato, davvero tanto, è il prezzo giustificato. Perché sarò sincero, io oggi, se non fosse che questo orologio, proprio per sua caratteristica, non ha le mappe, ad esempio, che per me sono fondamentali, io penso che dal Fenix 7 passerei tranquillamente a questo qua, di se tutte le caratteristiche simili e uguali al mio top di gamma. Perciò tiriamo le conclusioni per questo Garmin 4Runner 255. Che dire, penso che ormai l'abbiate capito da tutto il corso del video che a me questo 4Runner mi è piaciuto veramente tanto. Io ve lo consiglio, davvero ad oggi, penso che in questa fascia di prezzo sia l'orologio migliore per sensibilità dei sensori, qualità dei sensori, per dati che ci vengono riportati, per tutte le attività che possiamo registrare, per le dimensioni. Sì, i prezzi, è vero, si sono alzati, come dicevamo, ma a mio parere è giustificata l'aumento di prezzo. Io ve lo consiglio e lo consiglio praticamente a tutti. Cioè, dallo sportivo amatoriale che magari vuole avere uno sportwatch che fa magari due uscite di corsa, un po' di tracking, un po' di roba molto semplice, allo sportivo che invece ha bisogno di tutti i dati, che magari utilizza anche applicazioni esterne per poter andare a capire se sta migliorando o se non sta migliorando. Come dire, allo sportivo quello proprio top ha quello che punta ad avere grandi risultati. Questo orologio va bene veramente per tutti. Detto ciò ragazzi, io nella speranza che sia stato esauriente e esaustivo, anche per questo video vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!